Venditalia 2024 continua, siamo allo stand di Gise Caffè SRL, una nuova azienda di cui sentiremo parlare prestissimo non solo per il mercato italiano e qui a rappresentarla molto bene c'è Tiziano Fantoni, l'amministratore delegato dell'azienda. Gise Caffè SRL di Gaggio Montano, è un'azienda che è stata costituita a maggio del 2022, in realtà il progetto è partito circa un anno prima quindi abbiamo sviluppato quello che è un nostro sistema chiuso con la nostra macchina da caffè, è un'azienda giovane perché siamo partiti con l'installazione degli impianti verso marzo 2023 quindi pensate che abbiamo pochissimi anni alle spalle, ciò nonostante oggi siamo qua alla nostra prima fiera del Venditalia, seconda fiera perché era già presente a Ost a ottobre e oggi presentiamo quella che è la nostra prima macchina per il settore Oreca, uno o due gruppi dove si rifà sulle logiche del nostro primo progetto che è la macchina Aura. Oggi siamo qua anche perché stiamo ampliando la nostra rete vendita, stiamo ampliando la nostra rete commerciale e questo grazie soprattutto all'inserimento di una persona, di un'importante persona presente in questo settore che è Salvatore Sicilia qui al mio fianco che ha questo importante compito di instaurare, di creare questa rete vendita in tutta l'Italia e non solo perché stiamo anche guardando quelli che sono i mercati esteri sia europei che quelli al di fuori dell'Europa. Grazie Tiziano, in realtà volevo presentare insieme a te proprio Salvatore Sicilia che intanto accolgo con un bentornato. Grazie Fabio, grazie e benvenuti allo stand di Gise Caffè. Salvatore tu sei il direttore commerciale dell'azienda, una carica importantissima che segue tante altre cariche in questo settore in un crescendo davvero straordinario, per te questa è una grandissima nuova sfida? È una grandissima nuova sfida ma è una sfida anche motivante perché comunque alle spalle dell'azienda c'è un know-how storico di 40 anni di esperienza e questo è motivante per me ma anche per tutto il gruppo di lavoro che sto mettendo in piedi un po' in Italia, anche se la vocazione aziendale è una vocazione a carattere internazionale, io mi sto occupando dell'Italia con l'inserimento di nuove figure commerciali su tutto il territorio e ti dico la verità io farei riferimento ad una frase importante che poi è diventata un po' lo slogan aziendale, una ventata di novità nel mondo del caffè. Questa è una frase che ci sta accompagnando un po' nel percorso del progetto perché sostanzialmente con la macchina multifunzione con la capsula Gise Caffè brevettata di proprietà è il binome, il connubio perfetto per portare avanti un progetto davvero innovativo e quando parliamo di innovazione perché la macchina nostra multifunzione è una macchina con delle caratteristiche tecnologicamente molto avanzate, basti pensare che la macchina ha dei tasti dedicati all'erogazione di ogni tipologia di prodotto o di bevanda praticamente che abbiamo a corredo da proporre ovviamente al cliente, quindi il tasto per il caffè, il tasto per l'erogazione delle bevande e il tasto per l'erogazione delle tisane, della linea benessere delle tisane che sono dall'altro in co-branding con l'istituto eboristico L'Angelica. Diciamo quindi che il progetto è un progetto strutturato, è un progetto praticamente che stiamo portando come diceva giustamente Tiziano su tutto il territorio, il territorio nazionale con l'inserimento di nuove figure professionali dei commerciali che vengono dal mondo OCS quindi hanno una preparazione di base veramente importante. Diciamo l'Italia è quasi completa, siamo una start up, siamo partiti da poco però abbiamo le idee ben chiare, abbiamo focalizzato insomma qual è il nostro partner ideale ci stiamo concentrando su quelli, il nostro partner ovviamente ideale è il canale spedalizzato per il negozio ospedalizzato OCS o la linea del vending. E non abbiamo ancora detto quante sono le referenze per il prodotto caffè ma soprattutto non abbiamo ancora detto che si tratta di un sistema chiuso. È assolutamente un sistema chiuso perché la macchina è una macchina ideata, progettata da noi in azienda, costruita in Italia quindi è una macchina 100% made in Italy, c'è un rafforzativo rispetto alla macchina, la macchina ha 5 anni di garanzia quindi è tanto, vuol dire che il rivenditore quando in effetti porta la macchina al consumatore il consumatore si sente tutelato, come lo è il consumatore lo è anche il rivenditore perché è una macchina praticamente dove? Sappiamo che di solito queste macchine che erogano i prodotti caffè o bevande tendono nel tempo praticamente con la formazione del calcare a fermarsi o a bloccarsi. Noi abbiamo ideato su questa macchina un sistema dove quando ci viene erogato una certa quantità di prodotto una spia lampeggia e avvisa che in quel momento ha bisogno di essere decalcificata. Questo a tutela del prodotto, a tutela praticamente della macchina quindi diamo una macchina assolutamente affidabile che duri nel tempo, quindi abbiamo lavorato su questo è un plus per noi importante proprio per dare garanzia sia al rivenditore che al consumatore di un prodotto affidabile e innovativo da questo punto di vista. Ora veniamo al numero di miscele brevemente. Allora le miscele sono, abbiamo un po' ripreso quello che è la rosa dei venti, ci facciamo riferimento alla rosa dei venti dove sono otto le miscele, abbiamo miscele che praticamente possono soddisfare un po' tutti i tipi, le tipologie di palato insomma, la miscela 100% arabica al 100% robusta o un 50% arabica e 50% robusta più un prodotto di decaffeinato che è veramente un prodotto eccellente. Dai caffè passiamo alla linea bevande, bevande calde dove praticamente ovviamente a corredo abbiamo il cappuccino, ginseng amaro, ginseng dolce, il mocaccino, l'orzo, alcuni tè praticamente e poi la linea benessere che sono 5 prodotti per la linea benessere, qualche esempio è il Tenergy o il ventre piatto che sono veramente prodotti che poi vanno a colpire un po' del canale un po' più femminile per la donna, no? Quindi un prodotto un po' più ricercato ma anche quello voglio dire è un prodotto che stiamo vendendo tantissimo perché è quello che ci chiedeva il mercato che per fortuna abbiamo sostanzialmente. Un esordio in grande stile il vostro, siete partiti poco più di un anno fa e piano piano avete iniziato a scalare la vetta del successo per il mercato italiano. Tiziano, quali sono i programmi futuri? Lo chiedo a te che sei l'amministratore delegato. Sicuramente insediarci, espandersi quanto prima in Italia e puntando sicuramente su dei negozi che inizieranno ad essere monomarca pian piano, abbiamo aperto il primo negozio alla Spezia a fine del 2023 e quindi puntiamo ad aprirne altri. Sicuramente questo non è solo l'inizio in quanto il nostro interesse è affacciarci anche su quelli che sono i mercati del nord Europa e quello americano. E infine per chi desidera avere maggiori informazioni tra i pochissimi che ancora non vi conoscono o non hanno richiesto informazioni in relazione ai vostri prodotti, ai vostri prezzi, ai sistemi di distribuzione da concessionari o da rivenditori, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile scrivere? L'indirizzo è infochiocciola gisecaffè.com Ci potete scrivere, insomma ci sono sempre delle persone disponibilissime e pronte a rispondere a ogni vostra richiesta, a ogni vostra domanda. Ecco, quello che vedete alle nostre spalle è il segreto del successo di questa azienda. Piano piano si è svuotata perché quando vedono la luce sulla telecamera ognuno teme che dia fastidio all'intervista ma fino a pochissimi minuti fa qui dietro c'era davvero un'infinità di persone che richiedevano maggiori informazioni, assaggiavano il prodotto e voi sudavate davvero sette camicie per accontentare tutti. E allora ringrazio l'amministratore delegato dell'azienda Tiziano Fantoni. Grazie, grazie a lei, grazie a tutti voi. E grazie anche a Salvatore Sicilia a cui auguriamo davvero di andare a creare un bellissimo percorso per tutta la rete vendita e naturalmente tutti coloro che vorranno richiedere informazioni per diventare loro clienti e o concessionari. Grazie, grazie a voi. Buon Gise Caffè a tutti.